Gentili telespettatori, buona giornata. Il PD è inattivo. È il primo bilancio della segretaria Schlein. Boom del 2 per 1000, quindi di donazioni al partito, con oltre 8 milioni di entrate. I conti così dell'esercizio 2023, come ha certificato il tesoriere Michele Fina e votato all'unanimità, segnano un avanzo di 704.018 euro dopo aver effettuato ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti per un importo di un milione di euro circa. Il PD può vantare proventi per oltre 10 milioni e 700 mila euro. Naturalmente hanno qualche piccolo problemuccio con gli affitti che hanno patteggiato con chi aveva questi stabili di pagare a rate gli affitti non pagati. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.